avevate un gioco indovina un po con qualcosa con un mazzo di carte che originalità guarda però mettiamo una cosa un po diversa se io sbaglio il gioco c'è un premio per te cioè questi qua saranno per te l'interesse cresce guarda un mazzo di carte lo mescoliamo ok e prendi una carta che vuoi ok bravissima guardala e ricordala guarda anche in camera ti sei ok inserisci la del mazzo dove vuoi fantastico e mescolalo siamo pronti con la scia io ovviamente però ritrovare la carta quando è fatto anche entro stanotte guarda un semplice taglio faccio così una e la tua carta sarà la prima del mazzo e questa non è questa ah e quindi se non è questa ho un'altra possibilità si è questa no no aspetta me sa che questo gioco non ha funzionato e quindi per te ti ho promesso il tuo premio ah 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 ah